Inaugurata a Teramo in via Molinari la casa della legalità e dell'ambiente, un luogo da oggi destinato alla cultura, creato all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato dall'autorità giudiziaria all'amministrazione comunale teramana. In questo appartamento, dove per anni è vissuto un boss mafioso, hanno trovato casa quattro associazioni di Teramo, Arci, WWF, Gadid e Mountain Wildless. Non avendo un pianeta B, abbiamo pensato di costruire un piano B, che per noi è un luogo dove ripartire con alcune attività, nel nostro caso come Arci, dopo 12 anni di assenza di una sede provinciale, ma di condividerlo con più soggetti. Quali saranno i vostri progetti? Finalmente riospitiamo e abbiamo l'onore di poter ospitare all'interno di questo spazio il centro di documentazione La Gramigna con più di 2000 volumi del WWF Teramo, che è un modo per avere un'aula studio e di ricerca per giovani universitari e non solo, su temi ambientali, locali e anche nazionali. Dopodiché presentazione di libri e soprattutto attività di coprogettazione e coprogrammazione con la pubblica amministrazione, cosa che nella riforma del terzo settore sarà preponderante e fondamentale. Oggi il messaggio più importante che viene fuori dall'inaugurazione di questa Casa della Legalità è proprio il valore straordinario della legalità e soprattutto il messaggio della lotta alla mafia, alla cultura mafiosa, sempre e ovunque, perché non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la cultura mafiosa appartenga solo ad una zona del paese, a un territorio specifico, geograficamente circoscritto. Dobbiamo combatterlo ovunque e ogni giorno in tutte le forme in cui si manifesta. E qui ci apriamo alla comunità e soprattutto alle future generazioni lanciando il messaggio di legalità. La Casa della Legalità e dell'ambiente di Teramo è solo il primo esempio di beni confiscati, trasformati in luoghi aperti alla comunità. Sul territorio comunale esistono infatti altri spazi appartenuti alla malavita e che saranno presto riconvertiti in strutture sociali.